E' un pregiudicato 39enne del serenitano arrestato dagli agenti della squadra mobile con l'accusa di aver ucciso una giovane prostituta romena, la 19enne Mariana Zzecheres, la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2016 nella zona periferica di Salerno. Gli accertamenti svolti dalla squadra mobile di Salerno hanno consentito di individuare, come sospettato, proprio il 39enne, che è già attualmente detenuto e condannato in appello per l'omicidio di una giovane prostituta bulgara commesso nell'agosto del 2016 in Pagani. La prova decisiva, le tracce biologiche della 39enne trovate sul cadavere della prostituta, sono risultate presenti anche sul luogo della sparizione e dell'omicidio della donna.